So benissimo cosa si prova, ci sono passato tantissime volte anch'io e proprio mentre stavo scrivendo questo contenuto ero timoroso di prendere un bidone per l'appuntamento che ho poi avuto il giorno successivo sì esatto, ero un po' teso ti guadagni la considerazione tra decine e centinaia di uomini che ci provano con lei ogni mese fai le magie per prenderle il numero di telefono ti giochi il poker d'assi per fissare l'appuntamento e il giorno prima o il giorno stesso ti dà buca quanto ti dà fastidio da 1 a 100? a me personalmente mille quindi siccome conosco bene il fastidio che si prova mi sono inventato un po' di trucchetti per cercare di non farmi dare buca ad un appuntamento come si fa? responsabilizzando la ragazza e fissando più dettagli possibili è la stessa cosa che si fa nella vendita ma l'ho applicata alle conoscenze uomo-donna 1. Falla prenotare al posto in cui andrete questa tecnica è micidiale devi andare a cena in un ristorante? benissimo! prendi il numero di telefono giralo alla ragazza e dille che sei molto occupato per organizzare un evento di lavoro chiedile gentilmente di sgravarti di questo compito e falla prenotare a suo nome in questo modo la ragazza è molto più responsabilizzata rispetto a non avere una meta non avere una prenotazione a suo nome e a non avere un orario se non vai al ristorante scegli un lounge bar molto carino e applica la stessa identica tecnica in questi cocktail bar di fascia medio-alta le prenotazioni sono sempre ben accette dille che è sempre pieno di gente 2. Fissa l'orario in cui la andrai a prendere questo è il secondo step e prevede di fissare l'orario in cui la andrai a prendere sotto casa tale dettaglio si somma ai precedenti e contribuisce a diminuire le probabilità che la ragazza ti dia buca più l'appuntamento è in qualche modo organizzato e vincolante meno è probabile che la ragazza ci ripensi e finisca per fare dietro front all'ultimo momento ovviamente non è detto che nel caso in cui l'appuntamento sia improvvisato la ragazza ti dia buca al 100% questo è un modo che ho testato e che funziona 3. Falle capire che hai spostato altri appuntamenti e impegni per lei questo è l'ultimo step ossia della marcatura e del ripasso consiste nel caricare ulteriormente di responsabilità la ragazza usando frasi di questo tipo ho spostato 3 appuntamenti per riuscire ad organizzare questa serata alla fine quello che conta è che ce l'abbiamo fatta ora tutti quelli che hanno letto tanti manuali diranno eh ok ma così non rischi di darle troppa importanza ragazzi miei dovete passare dagli ebook alla realtà nel business un venditore dà importanza al suo potenziale cliente perché ci ha investito del tempo sopra ma congiuntamente si fa anche rispettare oltre a non far percepire alcun bisogno sei bravo qui è la stessa identica cosa grazie a tutti